I nostri due centrali, dopo la partita con Gemini, le impressioni su questa partita? Allora siamo andate bene, solo che abbiamo iniziato un po' in cerco, poi ci siamo riprese e abbiamo venuto. Qualcosa da migliorare dopo questa esperienza? Allora dovevamo migliorare gli appoggi e dobbiamo imparare meglio le posizioni. Grazie ragazze, ciao alla prossima!